Buongiorno a tutti, oggi parleremo di gestione del rischio, però in termini non classici, non da libro. Fa parte di alcuni studi che sto facendo riguardanti quelle che sono le mie posizioni dell'ultimo periodo, non solo dell'ultimo periodo. Non solo posizioni in profitto in generale, quindi un po' in ottica di trading. E volevo appunto fare queste riflessioni con voi. Mi sono fatto una scaletta qui a sinistra, quindi ogni tanto ci guardo per avere una linea, ve lo dico già, da seguire. Allora, la prima cosa importante che io credo noi trader, ve lo dico per esperienza, dovremmo fare, io lo faccio, ma ve lo dico perché è una cosa che ovviamente è importante, e che ho visto che per me è importante, è una gestione del rischio non guardando, osservando il singolo trade, ma andando a lavorare in ottica, diciamo, di portafoglio. Quindi nell'ottica più totale di un mix di trade, dove si va praticamente a valutare il rischio massimo, che deve essere sempre preciso, voi sapete, io tendo a utilizzare il paracadute, lo chiamo comunque degli stop ampi, non degli stop classici, almeno iniziali, sono proprio dei paracaduti più che altro, no? Per evitare movimenti di fast market, di grande volatilità, che portano magari poi a vedere la posizione, addirittura avere una perdita maggiore. Ovviamente dobbiamo tenere un rischio limitato, e appunto avere comunque un paracadute che si mantiene chiaro, quindi decidiamo che su un trade vogliamo rischiare tot, perché per la nostra esperienza, per il nostro capitale emotivo, per il nostro capitale soldi, quello ci permette tranquillamente, anche se dovessimo perdere tutto quel capitale, comunque di tradare poi ancora senza nessun problema, ecco quello visto però poi in un totale, perché può succedere che si apra un trade, e che poi dopo qualche giorno se ne apra un altro, e dopo qualche giorno un altro, e magari abbiamo tre trade, quattro trade a mercato, può succedere. A me succede, per esempio, vengo da un'ultima dieci giorni, dove c'è stato un momento in cui avevo sei trade contemporaneamente a mercato, più un ordine pendente, per esempio, o qualche ordine pendente, poi alcuni appunto sono stati incassati, eccetera, infatti questa riflessione arriva anche da questo ultimo periodo. Quindi guardare sempre in ottica di totale, nel video precedente a questo, che è quella trading room dove ho parlato appunto della gestione, ho fatto su alcuni trade, parlavo di cumulo, ecco questa è un'altra cosa, cioè fa sempre parte di questo punto della gestione del rischio, cioè il cumulo, cosa vuol dire? Vuol dire che io ho un X trade a mercato, quindi facciamo esempio quattro trade a mercato, e questi trade a mercato mi stanno generando, dico una cifra ovviamente tonda, ma per esempio 100, ok? Questi 100, nel momento in cui vanno a, diciamo, a diminuire come valore, quindi da 100, inizio a vedere 90, poi inizio a vedere 80, 70, ecco secondo me anche questo è importante, cioè ci dovrebbe essere una soglia in cui alla fine si inizia a incassare almeno una parte. Quindi si va poi a vedere quelli che sono i trade che possono essere arrivati per quel momento, per noi, per la nostra fascia temporale di operatività, ormai alla fine della corsa, almeno per il breve termine io dico, e quindi quelli si possono iniziare a incassare, per esempio. Perché? Perché io tendo a dire, bene, c'è questo cumulo che fa 100, se vado sotto il 70 di questo 100, conviene iniziare a farsi qualche domanda, quindi a iniziare anche a incassare, che potrebbe anche essere incassare tutto. Non per forza dobbiamo incassare solo quelli che. Sta ovviamente poi lì alla situazione, al trader in quel momento, alla sua gestione amministrativa, quindi quello che è l'obiettivo, come è inserito nell'obiettivo mensile che ha rispetto appunto a quello che è il guadagno che sta facendo, o anche la perdita che in quel momento potrebbe avere, e quindi capire cosa sia meglio fare. E per fare questo, io credo che una delle cose che a meno a me è assolutamente efficace è quello di farsi delle domande e di capire quali potrebbero essere gli scenari più probabili o comunque quelli un po' più impattanti, e quale è quindi la cosa che potrebbe essere più efficiente per avere poi l'avvicinamento del mio obiettivo di fine mese, cioè avvicinarsi a quello, quindi ci si fa delle domande, se io adesso chiudo tutto, porto a casa X, il mio mese è l'obiettivo, è quello? È giusto? Sbagliato? Se invece tengo oppure prendo una parte e l'altra la tengo e vediamo quali potrebbero essere gli scenari? Cioè queste sono tutte cose di gestione del rischio, di razionalizzazione della posizione, di capire quello che sta facendo, è importantissimo. Noi nel Platinum, nel nostro servizio, insomma che è storico, io faccio tante volte questi esempi, la mattina a volte veramente sto 20 minuti a parlare solo di come sto ragionando per avere comunque la situazione un po' più efficiente, da un punto di vista totale però di portafoglio, e quindi sempre rispetto a un obiettivo che io ho di fine mese, quindi capire, quindi non va tanto nell'obiettivo grafico, magari che ci siamo prefissati, o l'obiettivo di prezzo che potremmo avere su un mercato, che è giusto avere, ma quell'obiettivo deve essere comunque correlato anche a un obiettivo poi monetario. Cioè alla fine, capiamoci, nel trading ovviamente l'idea è un lavoro e quindi abbiamo bisogno poi di avere delle entrate che siano più o meno costanti. Io lavoro multi-day, quindi lavoro di breve termine, qualche giorno, qualche settimana, quindi non è che ogni giorno devo fare profitto o devo comunque portare a casa i risultati, sapete che questo non è quello che io vi sto dicendo. Sto dicendo che nell'ottica del mese dovremo avere una costanza di riuscire a fare X posizioni, non troppe ma neanche troppo poche, il giusto, quello che viene sul mercato, e riuscire a gestirle in ottica totale. Quindi non è che un trade faccia la differenza, insomma può essere, c'è quel trade che a volte può fare la differenza, perché magari abbiamo preso veramente un fuoricampo, la fa probabilmente più in profitto, in perdita, sappiamo che se noi cerchiamo di gestire le perdite, come dico sempre, quindi paracadute ma poi con chiusure premature, quindi quando la posizione non va dalla parte, questo è il secondo punto che noi vogliamo uscire, però adesso ve ne parlo, è importante appunto questo. Quindi avere degli obiettivi anche proprio monetari di portafoglio, un trade può andare bene ma è un totalone nel totale del mese, poi nel totale dell'anno, in realtà nel totale del trimestre, io guardo molto il mese, l'anno in realtà, però faccio a volte, guardo anche un po' l'ultimo trimestre, vedo un attimo, no? Anche per avere una view un pochino più ampia, no? Non troppo ristretta, perché poi si può rischiare invece che sia limitante. Però avere questo obiettivo di fine mese, cercare di rispettarlo da un punto di vista proprio monetario, poi al di là della posizione cercare di farsi sempre, come dire, prendere sempre delle decisioni, in base anche a quella roba lì, perché è importante poi che la nostra azienda di trading fatturi, diciamo, no? Quindi che porta poi in cassa dei soldi. Questa è una molto importante, non ne parla nessuno, io ve lo parlo, ve ne dico, perché queste cose sono cose che io ho vissuto vivo e ho visto essere efficace, quindi ve lo dico. Poi, seconda cosa, se si ha una posizione in perdita e si è dubbiosi su quello che può essere l'evoluzione del mercato e quindi potrebbe avvenire una, come dire, una situazione in cui a livello mentale siamo portati ad avere una, come dire, un sentimento di speranza verso quel trade, no? Un modo di guardare quel grafico quasi non più oggettivo, diciamo, ma molto soggettivo perché siamo in una certa situazione, magari siamo short, il mercato sta salendo, o il contrario. Ecco, diciamo, nel dubbio, quando si inizia a essere dubbiosi, quando si inizia a pensare, ma questa posizione, allora meglio uscire. Ok? Tanto si può sempre rientrare. Una bella ripartenza, una bella nuova entry è sempre ben accetta, non ci sono problemi. e questo ci porterà poi ad avere fatto, magari, aver preso o una perdita molto più piccola di quella che ci eravamo prefissati all'inizio e questo è assolutamente ottimale poi nell'ottica di sviluppare nel conto economico della nostra azienda di trading i costi e i ricavi. Quindi i costi saranno sempre molto più bassi dei ricavi. Quindi anche se il nostro paracadute iniziale in realtà a volte può essere anche più ampio di quella che è la media che noi andiamo a prendere, è molto difficile che quella paracadute venga poi a, come dire, a fare la parte dello stop loss, come dire, quindi che venga preso. In realtà è proprio un massimo rischio, può succedere, ma è in quanta percentuale in cento casi, pochissimo, se neanche a volte succede. E quindi, ecco, questo è molto importante perché può portare noi ad avere una gestione a parte emotivamente migliore, perché quando sappiamo, quando il mercato ci va contro, quando il mercato non è che ci va contro e usciamo subito, no? Dipende, no? Cioè dobbiamo capire cosa sta succedendo. Io per esempio ultimamente ho una posizione su dollaro yen che dopo due o tre giorni che sono entrato mi è andata contro con una barra di volatilità importante. Non sono uscito subito. Ovviamente ho fatto delle riflessioni che vi sto dicendo. Quindi nell'ottica totale, vediamo quanto ho rischiato, dove avevo messo il paracadute, cosa può succedere adesso. Cioè ci sono tutte le... Ecco perché anche il fatto di lavorare sui time frame grandi, weekly, daily, ci permette di avere più questi ragionamenti. Infatti adesso la posizione è a più di 300 pips di profitto e sta continuando ad andare e stuggire anche, tra l'altro, a stop a break even. Al momento in cui ve ne parlo, poi questo video probabilmente voi lo vedrete qualche giorno dopo di oggi, però per farvi capire. Quindi questo, insomma, è una cosa importante. Se la posizione sta perdendo, sta iniziando ad andare contro in maniera chiara, quindi con una volatilità ovviamente troppo ampia, con... si va a violare, a... cambia la situazione, ovviamente dobbiamo, a mio avviso, uscire. Cioè si fa sempre tempo a rientrare. Poi un'altra cosa che mi sono scritto è che riprende un po' quel vecchio video, vecchio neanche tanto, avrà un anno o due al massimo, quel video preso dal libro di Paul Dudor Jones, del libro Market Wizards, Interviews with the Top Traders, quello lì. Lo trovate qui sul canale, se andate a cercare. E avevo fatto delle... avevo fatto questo video, avevo preso una parte della sua intervista, ne avevo parlato, siccome sto rivedendo alcune parti di quel libro e ho ripreso questa parte, mi è venuto in mente molto interessante da parlarvene in questo video, perché volevo già farlo, e in più con questa parte concludo. lui dice di pensare sempre al tuo entry point come se fosse la close della sera prima, la chiusura della sera prima. È molto interessante questa cosa, perché anche qui ci permette di non guardare... Perché questo? Perché lui dice, quando c'è il rookie trader, quando c'è il trader alle prime armi, spesso ti chiede sei long o short sul mercato? Mettiamo che io dica sono long su questo mercato, e la seconda domanda che ti fa è e da dove sei long? E lui dice giustamente, chi se ne frega dove sei long? Cioè il fatto da dove sei long, questo, non ha importanza nello sviluppo futuro del mercato. Non so se sono concetti troppo strani che non avete mai sentito, però in effetti ha senso questa cosa. Cioè, se io sono long da 1 e la posizione è a 3, benissimo, ma dove ha chiuso ieri? Magari ha chiuso a 3,5 oppure ha chiuso a 2,50. Quindi lui dice, guarda sempre il tuo trade sulla close della sera prima o della settimana prima, poi dipende anche che tipo di trading in quel momento stiamo facendo, però di guardare quello, perché quello può darci comunque una più rilevanza rispetto a lo sviluppo del mercato che sta prendendo. non il mio prezzo di carico è là e quindi visto che è là, no. Molto interessante questa cosa, è una cosa che comunque cercherò di sviluppare anch'io. La sto già facendo in realtà in maniera quasi implicita, però è così. Cioè, andare a vedere ogni chiusura di giornata, vedere e gestire al massimo il rischio su quello. Quindi, pensare alla propria entry point come se fosse la close della giornata precedente. Quindi, ha ancora senso stare dentro, per esempio, ha ancora senso avere un'idea su un certo mercato o magari chiudere la posizione piuttosto che incrementarla. Ci sono alcune cose di questo tipo. Quindi, questo è il terzo, diciamo, advice, chiamiamolo così consiglio, che posso darvi per la mia esperienza riguardo alla gestione, diciamo, della posizione. Quindi, diciamo, allora, primo, per fare un riassunto, guardare i trades più che altro in ottica di portafoglio e non in ottica singola, perché in ottica singola diciamo che si tende, secondo me, ad essere anche molto limitante. È un po' come quando si va a valutare, no, il target, prima dicevo su questo punto, valutiamo il target solo ed esclusivamente in ottica grafica oppure benissimo, abbiamo quel target là e non facciamo più nulla, diciamo, invece dobbiamo guardare anche i target in ottica più di obiettivo del nostro mese, no, del nostro trading, quindi proprio a livello amministrativo, a livello di conto economico anche lì e quindi fare il cumulo, sul cumulo andiamo sotto il 70, iniziamo a capire, magari cambiamo, incassiamo anche, perché quel 70 dovrebbe diventare zero, quindi almeno una parte va incassata. Poi, secondo punto, se si ha una posizione in perdita, non ci piace più, iniziamo a diventare dubbiosi, speranzosi rispetto a il trade che ho in atto o ai trade che ho in atto, la cosa migliore da fare è quella di uscire, perché si fa sempre tempo a rientrare su ulteriori conferme e questo non è quindi un problema, anzi, una buona rientrata sul trade non è un... anzi, ci fa sempre piacere. E la terza cosa è di pensare sempre al nostro entry point come se fosse la close della sera prima, quindi non sviluppando il trade pensando, ah, tanto io sono entrato là, no, no, quindi questo ovviamente per un trading di breve termine, la sera prima o la settimana prima nel base in cui dipende un po' da che tipo di trade abbiamo, magari vogliamo fare un trade un po' più di ampio respiro, magari cerchiamo di guardarla un pelo più in ampio, per esempio io la mia posizione su dollaro yen, sì la sto valutando e osservando sul daily, però per esempio quella volta c'è stata quella chiusura molto forte, io ho aspettato e ho visto cosa faceva lì perché c'era un supporto e lì ha creato quello che pensavo, quindi ha tenuto, però ho ridotto il rischio e quindi pensare sono entrato da lì, no, e tutta una serie di cose che sono molto importanti perché è lì, cioè lo sviluppo, no, del trade futuro in effetti è più vero se guardiamo la close della sera prima, non della nostra entry point che non ha molto senso, quindi proviamo a switchare questa mentalità su questo, questa è una chicchetta che secondo me ha molto molto valore e quindi spero vi possa aiutare poi se la riuscite a sviluppare nel vostro trading e quindi a importare nella vostra operatività quotidiana. Va bene, io direi che per oggi è tutto, noi ci salutiamo, io vi auguro una buona settimana, un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.